Prego, prego, venite. Come sapete vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta. Il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore blu HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E ha anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Mister Gautieri, l'impressione a fine partita per come si è sviluppata la partita stessa è che più che di tattica o di tecnica oggi sia necessario parlare di psicologia applicata al campo. E lì probabilmente l'allenatore può fare ben poco. Sì, dispiace tantissimo perché comunque l'avevamo preparata diversamente, l'avevamo preparata come i primi 15 minuti, poi alla mia difficoltà la squadra è ritornata sugli errori, non solo di queste sette partite da quando ci sono io, ma errori di tanto tempo. Io penso che ognuno di noi si debba mettere in discussione, capire cose che non va perché stiamo facendo delle figuracce e penso che bisogna anche salvare la dignità personale e bisogna capire se ognuno di noi ha la dignità da salvare. Un ottimo avvio, uno splendido gol di Falletti, un vantaggio che avrebbe dovuto regalare un pizzico di serenità, poi è bastato un tiro della Proceri che ha sfiorato la traversa per mandare la squadra in bambola, come è possibile? Possibile che c'è discorso di paura, c'è discorso ambientale, c'è discorso di personalità e questo mi fa arrabbiare perché comunque ho detto ai ragazzi di andare in campo col giusto atteggiamento, cercando anche di divertirsi e di fare le cose che abbiamo provato durante la settimana, devo dire che dopo 15 minuti ho detto questa è la partita giusta per come si era messa e per le situazioni che abbiamo creato, poi dopo 15 minuti al minimo errore è successo quello che è successo. Stiamo lavorando tanto su queste situazioni, spero che prima o poi avrò una risposta. Mi sarebbero tanti gli errori individuali a partire dal portiere, centrocampo Coppola che perde un pallone così scioccamente. Questi errori sono determinanti ai fini della classifica ma anche nella partita stessa. Giocatori del calibro di Coppola, carismatici, non possono permettere questi errori, quindi forse non è meglio far mettere dentro giocatori più freschi, più giovani. Ad esempio, non è che vogliamo, abbiamo Petriccione che comunque ancora non è entrato in campo, è rimasto fuori per l'ennesima volta e lei ha detto che comunque tra le desma e il giocatore non coesistono, però tutti e due sono rimasti fuori, quindi forse ancora più giocatori freschi in campo. Ma questo sicuramente oggi penso che c'è anche da dire che è la terza partita di Coppola dove mi avviso stava anche bene, ha commesso un errore ma quello fa parte del gioco, oggi abbiamo perso la partita, io non penso oltre al discorso dell'errore perché abbiamo giocato 16 minuti, poi il discorso di chi gioca e chi non gioca, quella poi sicuramente la settimana adesso dirà diversamente perché ci vuole gente che ci crede, però qui se abbiamo parlato di un giocatore come Coppola che vi posso dire che è un giocatore che comunque dà sempre l'anima. Sì, però da lui non ce l'aspettiamo, un errore del genere insomma, cioè nel senso da lui ci aspettiamo sempre, sì è un grande lottatore, però molto spesso interventi troppi irruenti, anche il giallo di oggi insomma se lo poteva risparmiare, risparmiare, oppure no come è successo a Bari, i due falli insomma uno ha presso un altro, insomma il giallo subito, cioè un giocatore dal suo carisma, dalla sua esperienza si aspetta che trascina la squadra. Ma questo sicuramente, però è una domanda che dovete fare a lui, io metto in campo il giocatore che durante la settimana mi fa vedere situazioni positive, Emanuele mi ha fatto vedere situazioni positive, è normale che l'errore di oggi, non guarda neanche il discorso del gol, sull'entrata che ha fatto il primo tempo, c'è da riflettere, ma penso che sia anche il momento, sia anche il momento la situazione, Emanuele è un ragazzo disponibile, è un ragazzo comunque esperto, e penso che anche lui saprà sicuramente, al momento in cui analizza la partita di oggi, di aver fatto una cavolata. Mister, lei si è affidato a giocatori di esperienza, in difesa Contini a centrocampo Coppola, su Coppola ci siamo appena soffermati, anche Contini, già a Monito, che per difendere un pallone sulla linea laterale, allarga le braccia e si becca il secondo giallo, francamente da uno di 36 anni che ha fatto tanta serie A, uno non se l'aspetta, certo tantomeno l'allenatore che lo manda in campo. Ma la scelta di intratto di Contini, perché non avendo Valient, non avendo Masi, avendo Di Akite che comunque si è allenato due giorni, è normale che dovevi per forza di cosa fare quella scelta lì. C'è la scelta anche di Rossi, che è rimasto fuori, perché comunque mi è rientrato 5-6 giorni fa, qui l'allenatore fa le scelte, anche in base alla situazione fisica, e ci sono tanti giocatori che oggi non stanno bene, io per forza di cosa devo fare delle scelte obbligate, con la sua scelta di Contini, il ragazzo comunque ha commesso un errore oggi, però ha fatto, mi avviso, due partite importanti, e oggi era l'unico centrale che potevo far giocare, avendo anche Di Akite, ripeto che si è allenato solo due giorni, non avendo Masi e Valient. Di noia in tribuna invece come la giustifica? Di noia in tribuna la giustifica, perché comunque c'è una rosa ampia, se non va di noia va un altro, per forza di cosa ho dovuto mandare un attaccante, un centrocampista. Senta mister, oggi arresti che già non era stato, diciamo, irreprensibile contro il Latine e contro il Verona, anche se parliamo di incertezze, non di errori clamorosi, oggi però ha palesato una costante insicurezza, soprattutto nel primo tempo, l'errore sul secondo collo è macroscopico, e credo non debba essere commentato ulteriormente, ma anche in precedenza aveva sbagliato un'uscita, esco o non esco, insomma, Di Gennaro a suo tempo ha perso il posto, perché si diceva non comunicasse sicurezza dalla squadra, poi lei è arrivato e Di Gennaro era fuori, per infortunio, quindi ovviamente non poteva fare altro che confermare arresti, però una prestazione così titubante da parte del portiere Sardo crea qualche campanello d'allarme, in aggiunta a tutti gli altri che già esistono. È normale, noi dobbiamo, come ho detto prima, bisogna metterci in discussione, però guardiamo l'errore di arresti, guardiamo l'errore di Coppola, e guardiamo l'errore di Contini, ci sono errori individuali, e dove bisogna migliorare sulla situazione individuale, e sicuramente lavoreremo anche su questo. È normale che tutti noi, quando io dico che ci dobbiamo mettere in discussione, ci dobbiamo mettere in discussione, perché errori che abbiamo commesso, commessi oggi, sicuramente non ce lo possiamo più permettere, perché comunque stiamo facendo delle brutte figure sotto tanti aspetti, e così non va bene, mi dà tremendamente fastidio, perché io se partite consecutive non l'abbiamo mai perso, non ho mai perso, massimo due, lavoriamo in un altro modo, noi lavoriamo, come avete visto oggi, la squadra nei primi 15 minuti, sotto aspetto tecnico-tattico, se poi dopo 15 minuti saltano gli equilibri, ripeto, questo mi fa pensare, mi fa riflettere, è normale che i giocatori mi devono dare una risposta. Alziamo bandiera bianca, ora siamo aggrappati a quelle piccole, in termini percentuali, chance di salvezza che ancora la matematica concede. Per il mio modo di fare l'ho fatto anche in precedenza, se non ci credessi me ne sarei già andato, perché sono fatto così, se oggi sono qui non sono qui per soldi, sono qui perché ci credo, un anno in una situazione non ci credevo, e me ne sono andato, e vi posso dire che il contratto era molto diverso da quello di adesso. Secondo lei il gruppo la segue in campo, visto comunque gli errori di partita in partita? Se andiamo a guardare l'anno della Ternana, vorrei dire che questo gruppo non segue nessuno, ci vorrebbe forse Copperfield per farli rendere al massimo, qui bisogna cercare di, un professionista deve capire cosa deve fare, io vedo che comunque mi seguono, vedo la squadra che comunque sta attenta, vedo la squadra che comunque in campo mi fa quello che ha fatto i primi 15 minuti, durante l'allenamento, poi se mi seguono o non mi seguono è un problema loro, non è un problema mio. La partita però deve durare 95. Ho capito, bisogna migliorare in tante situazioni, non è la prima volta che ci capita questo, bisogna capire ognuno di noi cosa bisogna fare, e cambiare la mentalità. Oggi ci sono stati troppi errori individuali. Mister, allora proviamo in conclusione a salvare qualcosa, soprattutto in ottica futura, quel quarto d'ora iniziale di cui lei parlava e che aveva anche portato la sua squadra meritatamente in vantaggio, Meccariello, forse Falletti Avenatti, probabilmente Pettinari, 4-5 cose si possono salvare in questo contesto. Ma sicuramente, però non bastano, cioè non basta, perché se salviamo solo 4-5 cose vuol dire che non andiamo da nessuna parte. Qui bisogna migliorare la situazione del gruppo, bisogna migliorare la situazione del singolo, bisogna migliorare tante situazioni. Questa è una squadra che dal primo giorno, dalla prima giornata dei problemi, e dobbiamo cercare, visto che la classifica ci dice che ancora ci possiamo salvare, bisogna cambiare qualcosa. Cioè se no, si possono cambiare tante cose, ma poi i risultati si vedono e non arrivano. Buon lavoro, mister. Grazie. Buon lavoro.